Oh, questo mi interessa, cioè per vederlo adesso, le varie censure nei manga, da My Hero Academia a Megaman. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, è da ormai circa 30 anni che i manga si stanno sempre più radicando nella cultura occidentale, ma quando un prodotto proviene dall'estero, in questo caso dal Giappone, prima di essere distribuito deve essere analizzato per controllare che rispetti le linee guida nel paese di importazione. Tipo, vabbè, lo sappiamo che in Cina censurano il sangue con altre cose, ma... Possibili motivazioni della censura. Nel consigliato, il fomento giapponese è stato spesso additato per il suo contenuto esplicito di violenza e di erotismo, quasi penalizzato dalle prime impressioni che si ha su quest'ultima. In generale possiamo schierare, scindere la censura in quattro gruppi. Censura per motivi espliciti, propaganda negativa o rimembranze a personaggi storici nocivi, censura per scene di sesso esplicite o erotismo, censura per eccessiva violenza e per divergenze culturali. Ad esempio, My Hero Academia in Cina. Un esempio per motivi politici è My Hero Academia, uno dei manga di maggior successo. Con l'uscita del capitolo 259, Ah, Orikoshi svela il vero nome del dottore, che fino a quel momento era conosciuto come Daruma Ujiko. Non credo sia uno spoiler questo, cioè possiamo leggerla questa cosa. Vabbè, comunque. Daruma Ujiko. Il nome in questione è Maruto Shiga e sarà il motivo di censura. Il nome Maruta veniva utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale per riferirsi ai crudeli esperimenti che i giapponesi compivano sulla popolazione cinese. Ah, e quindi ovviamente l'hanno censurato in Cina. Sì, l'abbiamo detto in Cina. Il mangaka non diede questo nome per caso, di fatti il dottore era solito fare esperimenti su cavi umane. La censura potrebbe rivelarsi autoimposta, infatti Orikoshi ha rivelato che in futuro il nome del personaggio verrà modificato. Senza, ok, va bene. Pokémon troppo erotico per gli americani. Ma no, ma come per gli americani, ma no. Correva l'anno del... L'anno 98 in America viene importato uno dei primi manga del francese di Pokémon. Il mangaka che lavorò alla trasposizione, che in precedenza aveva lavorato a parecchi entai, queste esperienze portarono all'aggiunta di un pizzico di erotismo che agli americani non piacque affatto, tanto da censurare le parti più erotiche. Vabbè, nel senso che poi effettivamente la censura è arrivata pure nell'anime. Cioè, nell'anime non ha queste dette, quella del Team Rocket, non mi pare proprio, quindi sì, penso che sia arrivata pure nell'anime. Anche il Giappone non è da meno. La censura del manga non avviene solamente nell'esportazione. È il caso di Gen di Hiroshima, che venne proibito in alcune scuole per eccessiva violenza e per l'uso continuo dei termini dispregiativi rivolto verso i poveri. Ma no, ma come? L'opera si concentra sulla Seconda Guerra Mondiale e l'impatto e gli effetti della bomba nucleare sul paese del sollevante. Non conosco questo manga, sinceramente. Non conosco proprio. La blasfemia non resta impunita. Ultraman? Nel 2014, a trasposizione del manga Ultraman, raggiunse la Malesia, che lo censurò per motivi religiosi. Il personaggio, infatti, veniva paragonato ad Allah, il quale veniva continuamente nominato in vano. Per le autorità malesiane fu ovvio censurare immediatamente l'opera. Ah, va bene. Midori, il manga è bannato. Abbiamo approfondito il caso dell'anime Midori, la ragazza delle camele su YouTube. Un suo caso molto raro che ha convolto il Giappone è bannato in tutto il mondo. Il manga è legato alla differenza dell'anime, ma anche qui non mancano ovvie censure di parti troppo spinte o disturbanti. Ma che sarebbe questo? Sicuramente la parte più censurata è quella dove la protagonista, con la scarpa, colpisce la testa di un cucciolo fracassandogli il cranio. Ma che cazzo è sta roba? Ma di che parla sta... Ah, vabbè, è un video, quindi non ho voglia di vedere il video, però interessante. Interessante. Comunque, per fare un riassuntino su questa cosa delle censure, sinceramente, credo che in certi casi possano pure essere... Non le censure prese a priori, quelle no, però lo posso capire tranquillamente. Penso che possano pure essere giuste. il tipo di sessualità che viene utilizzata in Giappone non è lo stesso tipo di sessualità che ci sta in altri paesi, quindi se vogliono censurare dei personaggi che sono eccessivamente troppo espliciti o, certo, alcune censure io e noi le troviamo ovviamente eccessive, tipo la svastica di Tokyo Revengers è un'altra censura che non hanno messo qua, che veramente non ha proprio senso di esistere, quella censura lì. Però nel complesso penso ci possa stare in alcuni casi. La cosa sbagliata a priori è quella di censurare a prescindere, cioè di censurare ancora prima. Cioè se arrivassimo al punto in cui i mangaka giapponesi non mettono svastiche, personaggi storici, scomodi, tipo Hitler o queste cose qua, proprio per evitare di poi venire censurati, lì sarebbe un problema. Però diciamo che finché l'opera originale è in quel modo e poi la censura modifica degli aspetti molto poco importanti, ci può pure stare. Cioè finché si tratta di un nome, questi gran cazzi, cioè il nome del dottore di Myro Academia, che cazzo se ne frega. quindi dipende, dipende da come viene effettuata la censura. Tipo, non è da considerare censura, però il cambiamento che c'è stato e che ci sarà probabilmente in solo leveling per via dei problemi tra Giappone e Corea, quella è una cosa che non mi fa impazzire, però già ne abbiamo parlato parecchio. I pantaloni dei giganti. Aspettate, aspettate. Che bello. Che bello. Sì, 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 sì. Ma non mi ricordo dove, non mi ricordo dove hanno fatto questa cosa, ma hanno veramente messo i pantaloni a tutti i giganti. Ma è molto divertente perché, a parte qua il gigante femmina quando combatte con Eren, ma guardate questo. è bellissimo, raga. Sembra tipo una pubblicità, una pubblicità dei boxer maschili. C'è una pubblicità per intimo maschile, sembra. È stupendo, è semplicemente stupendo. I giganti con i pantaloni, effettivamente è un altro, è un altro di quel tipo di censura molto molto divertente. Sì, tipo in Indonesia, vabbè, ma... In questi casi uno si può solamente fare una risata e basta perché... È bellissimo, perché voi immaginatevi le persone che guardano questo anime e pensano Ah, ma quindi una persona quando si trasforma, un gigante quando si trasforma nasce con i pantaloni. Cioè nasce con i boxer. È incredibile.